Condizioni di tempo un po' incerto sulla nostra regione, ma anche su gran parte dell'Italia, come vediamo dall'immagine del satellite, è presente un flusso di correnti a tratti umide in quota che porta alla formazione di nuvolosità e anche a dei locali rovesci, questo tempo un po' spiacevole anche per fare le previsioni. Vediamo anche la carta del tempo, dove si vede che c'è questa linea di instabilità, non c'è un vero fronte, la pressione tutto sommato è abbastanza alta, c'è un anticiclone sull'Europa centro-orientale al suolo che favorisce poi nei bassi strati le correnti da nord-est. Per questo fine settimana quindi avremo un cielo variabile nella giornata di sabato, quindi ancora tempo incerto, possibile qualche rovescio o qualche temporale a carattere sparso, difficile dire in che zone e in che momento della giornata si verificheranno questi rovesci, temperature tutto sommato abbastanza alte sempre intorno ai 30 gradi e borino sulla costa. Situazione direi simile per domenica anche se ci sarà un po' più di sole, un cielo probabilmente in prevalenza poco nuvoloso sulla costa, maggiore variabilità sulle zone interne con la possibilità di qualche temporale nel pomeriggio, temperature massime in pianura intorno ai 30-33 gradi e intorno ai 30-32 sulla costa. Condizioni in via miglioramento inizio della prossima settimana, quindi avremo un cielo in prevalenza poco nuvoloso, se lunedì che martedì con un lieve incremento delle temperature che probabilmente toccheranno nuovamente anche i 34 gradi, borino al mattino sulla costa, poi in giornata 20 a regime di brezza. Non ci sono particolari cambiamenti in vista nemmeno per la seconda parte della prossima settimana. Buon weekend a tutti!